Amore, per il mio compleanno mi avevi promesso un regalo. Io le promesse le mantengo, basta che mi dici che cosa vuoi che le andiamo a comprare. Qual è il problema? Una pelliccia, una bella pelliccia ecologica. Vuoi la pelliccia ecologica? Va bene, domani usciamo la compleanno. Senti, ma secondo te, come le fanno le pellicce ecologiche? E come le fanno? Come le marmotte catalitiche? Cap' domani.